Il direttore generale dell'azienda sanitaria della provincia di Potenza, Mario Marra, ha risposto oggi al sindaco di Lauria, Gaetano Mitidieri, per fare chiarezza sul servizio di radiologia. All'ospedale Beato Domenico Lentini, questa la lamentera esternata dal primo cittadino di Lauria nelle ore scorse, è sospeso da oltre quattro mesi il servizio di radiologia. Il ritardo nella risoluzione di questo problema, ha dichiarato Marra, è dovuto alla difficoltà nel reperire i ricambi delle parti necessarie alla riattivazione dei macchinari. Purtroppo, ha aggiunto il direttore generale ASP, si tratta di tecnologia datata, non semplice, da reperire sul mercato. In definitiva, come spiegano dall'azienda sanitaria di Potenza, nell'impossibilità di provvedere alla sostituzione in toto delle attrezzature, causa mancanza fondi, si è scelto di riparare quelle esistenti, incontrando per l'appunto la difficoltà a trovare i pezzi di ricambio. Uno dei due macchinari, però, ha spiegato ancora Marra, è già stato riparato. Stiamo attendendo l'arrivo del ricambio per il secondo e crediamo che la situazione sarà risolta entro dieci giorni. Lo ripetiamo a poi concluso e nel nostro interesse ripristinare il servizio di radiologia a Lauria e comprendiamo appieno la lamentela mossa da mitivieri.